Oltre 16.000 euro di pedaggi autostradali mai pagati, la cifra da capogiro è relativa a una lunga serie di violazioni del codice della strada rilevate dalla Polizia di Stato di Gorizia e per le quali a un camionista di origine romena sarà temporaneamente sospesa la possibilità di guida in territorio italiano. Il conducente, risultato essere anche il titolare della ditta di trasporto, verrà segnalato alla prefettura del capoluogo Isontino. La polizia ha scoperto il caso nel corso di una normale attività di vigilanza autostradale lungo l'A4. Grazie alla segnalazione del centro operativo autostradale, i poliziotti hanno verificato che il titolare del mezzo di trasporto risultava avere l'uso nel 2019 per ben 13 volte il pagamento del pedaggio per un totale di 16.220 euro. A quel punto il conducente, incalzato dagli agenti, ha dichiarato di essere titolare della ditta e contemporaneamente unico autista del mezzo pesante. Non potendo più eludere il pagamento del pedaggio, l'autista ha dovuto consegnare 900 euro di multa nelle mani degli operatori, sanzione complessiva per le innumerevoli violazioni al codice della strada. La violazione, conclude la questura di Gorizia, prevede la decurtazione di due punti della patente.